Venerdì 21 maggio il centro di Ravenna ospiterà due importanti eventi che segneranno la ripartenza dell'iniziativa in presenza in città. In occasione infatti della partenza da Ravenna della tappa del Giro d'Italia dedicata a Dante, il Comitato Spasso e Ravenna, con l'appoggio delle associazioni di categoria e del Comune, ha ideato una giornata di festa per rilanciare il commercio denominata Festa di Primavera. L'iniziativa permetterà ai negozianti del centro di allestire fuori dalle proprie attività dei punti espositivi che permetteranno lo shopping all'aperto e in sicurezza a partire dalle ore 16.30 fino alle 21.00. I commercianti avranno inoltre a disposizione una speciale maglia rosa dedicata al sumo poeta da esporre a partire da oggi in vetrina. La presentazione dell'evento, svoltasi questa mattina all'interno degli spazi del mercato coperto, è stata inoltre l'occasione per presentare il pannello in mosaico che raffigura Dante in sella di una bicicletta da corsa che il laboratorio Anna Fietta ha realizzato per il ciclista che partirà da Ravenna indossando la maglia rosa. Una giornata speciale, quella di venerdì, organizzata dal comitato Spassi e Ravenna, in che cosa consiste? Consiste nel aprire un attimo i negozi diciamo in una maniera un pelo diversa, invece di essere i negozi solo all'interno cercheremo di uscire anche sulla strada con chi con vetrine, chi con prodotti, chi con qualcosa, comunque all'esterno del negozio si allestiranno alcune cose e quindi si coloreranno le strade in pratica di tutto quello che noi commercianti esponiamo sia noi commercianti, sia gli artigiani, sia i bar, sia i ristoranti e altro. È una festa che facciamo, vogliamo chiamare festa di primavera, in pratica si aggancia alla giornata del Giro d'Italia che passa già per la città e cerchiamo di creare una giornata un po' diversa dopo questi lunghi lockdown, dopo queste chiusure, una giornata di apertura sia della città nei confronti dei cittadini e dei turisti eventuali che avremo. È un maggio molto particolare a Ravenna, è una notizia di questi giorni anche delle nuove riaperture e Ravenna riparte alla grande anche con un grande evento come il Giro d'Italia che quest'anno diciamo oltre a portare una grandissima visibilità a Ravenna si unisce anche alle celebrazioni dantesche in questa tappa Ravenna-Verona. È una bellissima iniziativa di Spasso in Ravenna che è questa nuova realtà molto forte del centro della nostra città cui l'amministrazione diciamo ha grande fiducia rispetto alla valorizzazione del nostro centro storico di collegarsi a questa bella iniziativa valorizzando la ricchezza, la bellezza e l'identità del nostro centro e quindi ripeto siamo molto molto ottimisti in un maggio alla grande in un'estate che ci faccia recuperare ottimismo. È il periodo dell'apertura, incrociamo le dita la situazione sanitaria sta migliorando, in centro storico abbiamo visto come i pubblici esercizi abbiano aperto i ristoranti, i bar con tavoli e sedie che l'amministrazione ha dato in aumento animando la città anche fuori dal centro storico. Ora tocca ai commercianti e agli artigiani che hanno costituito un comitato Spasso in Ravenna che li raggruppa in iniziative di valorizzazione del centro storico nato pochi mesi fa per la prima volta con la supervisione delle associazioni di categoria, le quattro associazioni di categoria, che ha lo scopo di lavorare insieme per promuovere il centro storico, in particolare la rete commerciale e artigianale. La prima iniziativa è il 21 di maggio, in occasione del Giro d'Italia la mattina sarà straordinaria, il centro storico sarà animato con la grande tappa, ma nel pomeriggio a partire dalle 16.30 in tutto il centro storico ci saranno diversi negozi che esporranno i loro prodotti all'esterno. Escono loro fuori, non sarà il cittadino a dover entrare nei negozi ma sarà il commerciante il titolare dell'esercizio commerciale o artigianale, in una logica di apertura, di abbraccio alla città. Questa è un'iniziativa sperimentale che dovrà avere successo e dovrà essere ripetuta, ma poi ci saranno altre iniziative di promozione della rete commerciale, attraverso iniziative mirate delle vie per animare il nostro centro storico che è bellissimo, che è attrattivo anche per i cittadini delle città limitrofe e delle regioni limitrofe e poi anche per i turisti, turisti che sono italiani ma sono anche stranieri, siamo vicini alla tomba di Dante, siamo nell'anno dantesco, siamo vicini a San Vitale, a Galla Placidia, quindi arriveranno anche i turisti, quali troveranno una città monumentale ma devono trovare anche una rete commerciale, artigianale all'avanguardia che sappia lavorare insieme e lo sta facendo, quindi veramente un in bocca al lupo a Spassini in Ravenna e un grazie all'associazione di categoria. L'amministrazione comunale ha contribuito dando un sostegno economico a queste iniziative e lo farà ancora, perché sono iniziative essenziali di linfa, di lavoro. Ci sono tutte le condizioni perché stiamo andando verso l'estate in cui i cittadini andranno al mare ma verranno anche in centro, nel pomeriggio, nella sera, nei pubblici esercizi ma anche nei negozi. Questo è il nostro auspicio.